Musica Continuano a registrarsi nuove vittime del coronavirus in Sardegna dopo il giovane di 33 anni morto ieri al pronto soccorso di Cagliari dove era arrivato con una grave insufficienza respiratoria una nuova vittima del covid di meno di 50 anni si registra a Sassari si tratta di padre Jean Loren Guglielmi 49 anni presbitero dei frati minori Cappuccini guardiano del convento di Noli Metollere di Sorso comune a pochi chilometri da Sassari il religioso è morto mentre si trovava nel reparto di rianimazione